Si avvicina sempre più il periodo delle festività natalizie, novembre ormai gli sgoccioli e già per le strade si respira un'atmosfera di festa tra luci, presepi e qualche albero già allestito. Anche l'associazione Gesù Nazareno a poche settimane dal rinnovo del direttivo si prepara a celebrare il Natale con il consueto appuntamento all'insegna della musica, giunto alla sua undicesima edizione. Le voci dei componenti del coro gospel GesCorus con la direzione del maestro Raimondo Capizzi riecheggeranno tra le navate della chiesa di Sant'Agata al collegio, location scelta ancora una volta per l'evento. Quest'anno l'associazione ha aggiunto anche un fine solidale alla manifestazione raccogliendo nella stessa serata anche beni alimentari da destinare a chi ne ha necessità. Per noi si tratta di una ripartenza di tutti gli effetti, già lo scorso anno abbiamo, dopo la pausa del 2020, iniziato il concerto di Natale, però in un'edizione in mezzo a tante limitazioni. Quest'anno invece ci auguriamo che possa essere una serata molto partecipata di pubblico e con il ritorno alla normalità. Quest'anno abbiamo anche avviato una nuova iniziativa e stiamo chiedendo al pubblico, al numeroso pubblico che ci aspettiamo ci possa essere per quella serata, di esprimere un gesto di solidarietà portando anche dei generali alimentari che si possono poi a fine serata offrire all'associazione Sant'Agata, che è un'associazione che svolge la sua attività nell'ambito della parrocchia Sant'Agata, donando a tante famiglie bisognose della nostra comunità generi di prima necessità. Ci auguriamo e siamo certi che il pubblico risponderà numerosa a questa nostra iniziativa, in modo che possa essere un Natale diverso anche per tutti. L'undicesimo concerto di Natale, The Christmas Soul, si svolgerà sabato 17 dicembre alle ore 20.15.